In compagnia del presidente di Orgoglio Amaranto, Daniele Farsetti, per presentare questa seconda edizione della festa di Orgoglio Amaranto, quest'anno tira un'area decisamente diversa. Sì, noi ci rivendichiamo anche un po' con orgoglio, scusate il gioco di parole, il fatto che l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione in un clima in cui non c'era forse tantissima voglia di festeggiare, però noi ci abbiamo creduto, abbiamo fin da subito voluto riportare un pochino di entusiasmo, regalare quel clima che poi forse ha consentito anche di creare quel giusto viatico verso la vittoria del campionato. Vogliamo anche leggerci questa chiave di lettura, poi tanto ha fatto ovviamente Mister Indiana e i suoi ragazzi, però la festa fatta in un momento in cui forse nessuno ci credeva è un piccolo segno distintivo per noi. Quest'anno la riproponiamo ancora più arricchita, sempre con al centro la buona cucina tipica nostra, la voglia di stare insieme e divertirci con musica live tutte le sere e anche la voglia un po' di approfondire alcuni temi. Presenteremo venerdì sera un libro di uno dei giornalisti più importanti italiani nel mondo calcistico-economico-finanziario, Marco Bellinazzo, che ci spiegherà un pochino il titolo del libro, Le guerre del calcio, perché appunto in questo momento, come tutti state vedendo, il mondo dell'Arabia Saudita, il progetto della Superlega di due anni fa, forse qualcuno sta tentando di sottrarre il calcio ai tifosi e scoprire meglio le dinamiche che ci stanno dietro per noi è qualcosa di molto importante. Premieremo sempre nella serata di venerdì la SBA, perché era presente colori amaranto in un altro sport, ma per noi è molto importante, quindi il presidente Mauro Castelli ci spiegherà un pochino le dinamiche di questa meravigliosa stagione. Noi vogliamo gratificare anche questa società importantissima per la nostra città. Il sabato avremo un dibattito sull'azionario popolare, sullo stato dell'arte dell'azionario popolare, avremo come esempio anche una società importante, il Palermo Calcio Popolare, che è una società condotta totalmente dai tifosi, e Stefano Pagnozzi, che è il presidente di Supporta e Zincampo, che è il sindacato italiano dei trust degli azionariati popolari. La domenica avremo la grande chiusura con un momento anche di celebrazione per la società Calcisti Carezzo, perché il presidente Guglielmo Manzo ripercorrerà i due anni e ci prefigurerà anche quelli che sono gli scenari della prossima stagione. Insieme a lui il direttore generale Paolo Giovannini e l'amministratore Sabatino Selvaggio. Anche l'assessore Scapekin, questo giorno di presentazione della seconda festa di Orgoglio Amaranto, allora è un momento di grande partecipazione. Sì, grande partecipazione popolare, non solo degli sportivi, ma direi dell'intera città, perché qua specie nelle ore serali si sta bene, c'è il fresco, quindi consiglio a tutti di venire, si mangia anche bene, questo a merito della Proloco del Bagnolo, che ospita l'evento, e a merito di Orgoglio Amaranto, che è riuscito in questa collaborazione anche quest'anno, penso proprio che diventerà un grande classico questa festa, perché veramente è ben riuscita. E tra l'altro complimenti a Orgoglio Amaranto per averci creduto l'anno scorso, in un momento anche un po' difficile per la tifoseria, dopo la delusione per un campionato non vinto. Oggi il cielo è più sereno in tutti i sensi e quindi ci sarà ancora più voglia di festeggiare. Un programma molto ampio che si apre anche al basket, e questo è bello perché Orgoglio Amaranto deve esserci sempre, quando qualcuno indossa la maglia Amaranto, che siano calciatori o sportivi di altro tipo, uomini o donne, è bene tifare e fare squadra da questo punto di vista. Ottima musica, dibattiti importanti sia con la dirigenza sia con dei giornalisti importanti a livello nazionale, quindi veramente un ottimo programma, il Comune patrocini e sostiene molto volentieri questo evento, che ripeto, penso proprio che diventerà un grande classico di inizio estate. Ci sono novità riguardo lo stadio, perché insomma la società subito dopo il giorno del trionfo in campionato annunciò che appunto avrebbe esposto a voi un progetto di rifacimento dello stadio. Sì, siamo diciamo più che un progetto a un'idea, un rendering abbastanza chiaro, comunque con le idee ben definite. Sono in corso approfondimenti da parte degli uffici, sia da un punto di vista tecnico, ovviamente per verificare la compatibilità di tutti gli interventi con il piano operativo, il piano strutturale, ma anche da un punto di vista legale, perché dal primo di luglio, quindi siamo ormai prossimi, entrerà in vigore il nuovo codice degli appalti. E questo chiaramente, trattandosi di un intervento importante su un impianto pubblico, ovviamente dobbiamo tenerne conto. Dobbiamo tenere conto anche della riforma dello sport, del decreto legislativo 38 del 2021, che fa riferimento al vecchio codice degli appalti, quindi dovremmo fare un po' il raccordo con quello nuovo, che sotto alcuni aspetti semplifica le cose, quindi dovrebbe essere una situazione sicuramente migliore. La società ha dato delle tempistiche, da inizio a fine lavori, di circa tre anni. I lavori chiaramente devono essere iniziati a stadio chiuso, a campionato fermo, perché il campo deve essere spostato. La prima cosa che devono fare è spostare il campo verso la tribuna, avvicinato alla tribuna, e poi procedere con il rifacimento degli altri settori, quindi ipotizziamo alla fine del campionato, che dovrà ancora iniziare, un inizio non prima, e spero non dopo, e poi da lì tre anni per vedere i lavori finiti, però nel frattempo già potremo rifarci gli occhi settore per settore nel corso del tempo. Giovanni Donati, oltre ad essere consigliere comunale, è anche rappresentante della Proloco del Bagnoro, che ospiterà questo evento. Sì, venerdì, sabato e domenica, presso i locali della Proloco di Bagnoro, ospiteremo per il secondo anno Orgoglio Amaranto in festa. Siamo onorati e siamo contenti che la festa dell'Arezzo venga fatta qui al Bagnoro, anche perché qui sono presenti tantissimi ragazzi che frequentano la curva e che sono ben contenti di poter dare una mano per sostenere questa festa. Ci auguriamo che ci sia tante persone che vengano alla festa, non solo per mangiare, ma anche per ascoltare i dibattiti, visto che c'è un programma ben nutrito e siamo ulteriormente contenti di poter dire domani che la festa del centenario sia stata fatta al Bagnoro.